Buonasera dalla vostra Shoshana Brown e dal vostro caro Ugo Stiglitz. Questa sera Teleberlino vi porta alla sera più importante del mondo del cinema, la notte degli Oscar, dove abbiamo il nostro fedele inviato Horst Tupper, sempre sul pezzo, che intervisterà le star più importanti. Vai Horst! Buonasera dal vostro Horst Tupper. Sto in attesa della prima grande star del red carpet, Shoshana Brown. Shoshana! La più grande star emergente. Axe Pandex. Ciao. Oddio, la vedo! Il signor Uts... Bonne... 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 Questo Armani privé, nel senso che è proprio privé da bagno. Con la carampana che veste con la vestaglia della nonna di Gaga. Cioè, questo si presenta sul red carpet con la vestaglia della nonna, capito? Minimamale che stai molto lontani, eh? Questa è star di Hollywood. Che puzzarello! Comunque, prima di vedere la notte più emozionante dell'anno, qualche consiglio per gli acquisti. Pubblicità. Secondo te litigavano davvero? Oh, buonasera! Anche voi volete lucidare la vostra statuetta? E non è tanto grande come questa, ma è il vero premio Oscar, il più ambito di ogni attore? Bene, solo con Splendor potete avere una statuetta dorata, come nuova, appena vinta. E che sia un premio rubato, come quella delle Barry, ladrato, come a Sandra Bullock, oppure quelli negati a Sua Maestà Mary Strip, l'H Splendor li farà risplendere e brillare per l'invita di tutti i vostri ospiti. L'H Splendor! E anche voi potreste dire di aver vinto il vostro Oscar personale. E ora cari telespettatori, una delle parti più interessanti della nostra serata insieme a voi, vero Shoshanna? Certo, Ugo. Siamo per presentare i nostri critici che discutono delle nomination. Attenzione perché ci saranno dei momenti un po' forti. A voi. E a servizio. Io vorrei commentare questa cosa con voi. Dominevolo di... Dingo! Io non ho visto Beautiful. Dingo! Io non ho visto... No, io ho visto... Dingo! E l'altro ho visto i tre, non mi ispiro. Oddio, odio, odio, odio! Ti è piaciuto quello di Banksy? Ah, sì! Dingo! Per me dovrebbe vincere tutto. Bene, gentili telespettatori, è stata una lunga notte e ora vi presentiamo le reazioni, insomma, dei premi, del rec carpet, le nostre reazioni a questa cerimonia. Ecco voi le reazioni. Reazioni, Dingo. Ah. Reazioni, sempre in testo. Reazioni. Baffanculo! Ma no, dai, no, 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 questa è una merda. ma va fa il culo va ma guarda che faccia fa che faccia fa stronta stronta sei una merda di sto cazzo merda un tipo lo scrivo Melissa merda è una cagata pazzesca cari telespettatori da Teleperino è tutto un saluto grande dal vostro Ugo Siglitz e dalla vostra Susanna Brown alla prossima non potete capire l'Oscar Gloria Swanson l'ha rubato il servizio l'Oscar l'Oscar l'Oscar